Modalità operative diverse, quattro cooperative che gestiscono il servizio 118 e di trasporto dei pazienti. A 12 mesi di distanza dalla rivoluzione sanitaria del Veneto, nell'USSI restano ancora molte diversità. Difficoltà concrete, ci racconta un autista e rianimatore come Gil Facchinelli, in servizio nel Exus 15, ad esempio nel trasporto di pazienti idealizzati in quell'area opera solo l'autista. Un paziente mi sono accorto quando dovevo eseguire lo scarico in struttura protetta che perdeva abbondantemente sangue dalla fistola. Per fortuna era una struttura vicino all'ospedale. Problemi che si riflettono anche nell'organizzazione del lavoro con turni che possono arrivare a 12 ore. Da due turni che erano tempo fa sono stati accorpati e in pratica è stato fatto diventare un turno unico di 12 ore. Ma in emergenza non è che è un turno che finisce lì, può prorogarsi a 13, 14 ore, 15, dipende. In vista delle gare d'appalto unitarie previste dalla Direzione Generale, quello per l'emergenza da solo vale 25 milioni di euro, dalla CGL arriva una richiesta. Noi vorremmo un tavolo di trattativa nel quale confrontare e uniformare le attività che vengono posti in essere e soprattutto prevenire alcune difficoltà che si potrebbero determinare nei servizi. Un importante accordo si è fatto in azienda ospedaliera unitariamente. Pensiamo che a fronte delle necessità che stiamo ravvisando su alcuni appalti si potrebbe fare un lavoro strutturato anche in ULS 6.